Siamo con Sandro Gennaro, amministratore delegato di LUMAR BioHouse. Il vostro slogan è la tua casa nasce dal cuore, perché? Nasce dal cuore, vuole rappresentare la filosofia della nostra azienda, quindi la grande passione per quello che facciamo e per la ricerca di un prodotto che deve rispondere a tutte le esigenze di un cliente che è il tipico cliente BioHouse. Quindi un'attenzione particolare a tutte le esigenze della persona, da cosa nasce questa intuizione? Nasce dal fatto che oggi sempre di più c'è una ricerca di un ambiente sano, di un ambiente ecologicamente sostenibile e quindi la ricerca di un prodotto che risponda esattamente a queste caratteristiche. Come nasce quindi una casa BioHouse? Nasce innanzitutto dall'ascolto del cliente, delle sue esigenze, da un buon progetto e quindi da un progetto che tenga conto dell'inserimento nell'ambiente in cui andremo a costruire, con il massimo rispetto per quello che è il contesto e poi soprattutto per quello che riguarda le caratteristiche di efficienza energetica delle costruzioni che andiamo a realizzare. Le prospettive di mercato della vostra realtà aziendale? La nostra realtà è una realtà che si sta espandendo, siamo già presenti in tutte le regioni e crediamo, entro l'arco dell'anno, di poter coprire tutto il territorio nazionale. Grazie.